Allora, visto che ci sono e che sto facendo il corso per la ricostruzione delle unghie, vi vado a mostrare tutto il materiale che ho accumulato in questo periodo. Prendo la valigetta e ci vediamo dopo. Rieccomi, questa è la valigetta, aspettate che vi sposto la ciotola dei cani, che non ve ne può fregare di meno. Questo è il mio valigione dove ho tutto il materiale per la ricostruzione delle unghie. Adesso, scusate la regia, ma devo aprire la tuta se non riesco a mostrarvi niente. Vado a separarla. Allora, questa è la parte del bauletto e questa è l'altra metà. Allora, iniziamo col mostrarvi subito questa metà. Se ce la faccio, perché ripeto che non sono pratica di regia. E comunque, qui avete il campionario, dei gel, tips, buffer, un po' di formine, il tagliati. E in questa scatola, se riesco, magari inquadro è meglio, se riesco a aspettare, perché io quando chiudo le cose le chiudo bene. Ci sono degli strati, dei canovacci da mettere sul tavolo. E questa è una parte. Poi, qui sotto, abbiamo due cassettini. In questo ho ancora dei canovacci. Poi, se non butto la roba in giro, forse è meglio. Qui ho gli affarini per togliere il semipermanente. In quest'altro cassetto ci sono tutte le gran parte delle punte e dei ricambi della fresa. Qui sotto abbiamo un tappetino in silicone. La lampada UV, disinfettante per le mani, disinfettante per gli strumenti e la mia fresa. E questa è la prima parte del mio bauletto, che adesso non riuscirò più a chiudere con delle inquadrature che fanno schifo. E vabbè. Adesso vi vado a mostrare tutto quello che è questa parte qua. Così vi rendete conto in questi anni, in questi due anni, quanti soldi ho scoperto di aver buttato nel water. Ci va mezz'ora per aprire perché ci sta tutto, ma è scomoda. Non vedo l'ora di finire, di metterla a cucina. Aspettate, adesso ve li divido. Così voi vedete tutto il marasma che c'è in casa mia. Opla. Ok, eccola. Cioè guardate qua quanta roba. Comunque vi dicevo, non vedo l'ora di finire, che arrivi sta cucina, che montiamo, facciamo i lavori e ripuliamo tutto. Così poi qua dove c'ho il divano dei nani, sparirà tutto, penso, se riesco. Voglio toglierlo e fare la postazione per le unghie, così avrò sempre tutto a disposizione. Qua i miei cani hanno preso i nostri pigiami per le loro coperte. A parte la nera laggiù. Vabbè, bando alle ciance, andiamo avanti. Allora, in questo vassoio di valigia abbiamo il cleanser, svariati gel costruttori, primer, top coat. Abbiamo provato a prendere anche uno di questi, queste tutte le cose che ho comprato tra le espresse e i vari siti nell'ultimo periodo. Questo è su due piani, sotto è pieno di altri colori, se riesco. Voilà. E poi qui abbiamo il sgrassatore, romover gel, insomma ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche e apparentemente dopo che ho fatto il corso tutto materiale inutile. Qui ci sono altri buffer, le micche metallizzate, il bicchierino per il liquido acrilico, qui dentro giusto giusto due semipermanenti. Quindi, poi, abbiamo questa parte qua dove ci sono punte per la fresa, i pad, cotton fioc, aspettate, qua ci sono i cotton fioc, qua abbiamo tutti i pennelli, qua tutte le lime e da questa parte qua tutta la roba per le decorazioni. Quindi, niente, a conti fatti mi sono resa conto che in tutta questa popò di roba, in due anni ho speso penso più di 1000 euro e facendo il corso ho scoperto anche di aver buttato un sacco di soldi nel wc. Roba che con quello che ho speso per comprare sta roba mi pagavo un corso professionale e mi compravo anche il kit professionale. Però, chi non risica non rosica e quindi va bene così. Niente, vi ho mostrato tutto il mio baradà. Ciao, buona giornata!